Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova analisi su Bitcoin con la ciclica evoluta. Ripartiamo da che cosa sappiamo e che cosa sta succedendo. Nella scorsa puntata vi avevo segnalato che era possibile che sarebbero state varie candele inside, ma che avevamo bisogno perlomeno di un settimanale inverso, almeno 6 giorni, sotto questo massimo a 12.100. Questo è l'ultimo massimo fatto oggi, 12.080. Abbiamo avuto un ritracciamento molto forte, quindi spinta fortissimo ai basso e poi siamo ritornati verso l'alto. Abbiamo ben più di 6 giorni sopra il massimo dato. Per cui possiamo asserire tranquillamente che qui abbiamo già un settimanale, un T inverso, che essendo comunque in ogni caso neutro, può tranquillamente lanciare il nostro T più 3 inverso, che è arrivato già a 9 barre su minimo 48, e che in caso di violazione di questo massimo a 12.100 potrebbe dare ancora corso a spinte a rialzo. Vi faccio notare soltanto che l'unico dubbio che ci può essere sempre è che tra cicli grossi e altri cicli grossi ci possono essere dei raccordi inversi o anche dei raccordi stessi, ovvero delle finte che poi fanno ripartire effettivamente un secondo ciclo effettivo. Vi faccio un esempio molto semplice. Qui, da questo massimo, abbiamo sviluppato fino a quest'altro 61 barre, quindi un T più 3 inverso, un trimestrale inverso. Da questo massimo è nato, si è sviluppato, ed ha chiuso, ed ha già vincolato tutta la struttura a ribasso, ovvero a rialzo per i prezzi di Bitcoin. Tra questo T più 3 e quello che potrebbe essere partito da questo massimo, e che potrebbe già vincolarsi di nuovo a ribasso, per quanto riguarda appunto l'inverso, e quindi a rialzo come prezzi, e il successivo potrebbe esserci un raccordo di 3 gradi inferiori, ovvero una finta, come in questo caso, a rialzo di inverso, ovvero ribasso di prezzi, che poi ritorni qui e che poi faccia effettivamente partire un nuovo T più 3 inverso, oppure questo potrebbe essere già il T più 3 inverso, per cui i prossimi giorni, di nuovo, saranno estremamente importanti. Se avremo, ovvero, una violazione di questo massimo a 12.100 e una prosecuzione con spinta di volumi verso l'altro, perché in questo momento, come vedete, abbiamo divergenze sia alziste che ribassiste, allora proseguiremo rialzo. Viceversa, anche se ci sarà soltanto una violazione dei 12.100 non seguita da candele verdi che aggiornano sempre i massimi e con chiusura superiore ai 12.100, questo sarà da considerarsi un raccordo, una finta verso il basso con po' rialzo e poi ripartenza di un T più 3 effettivo inverso con minimo sempre un settimanale che scende e poi dovremo vedere che spinta effettivamente, anche perché comunque, in ogni caso, questo T più 3 inverso si è già vincolato, appunto, a ribasso, ovvero rialzo per i prezzi. I prezzi potranno continuare a salire per un altro trimestre, ciclico sempre. Per cui attenzione, per ora continuiamo a rimanere in Golden Cross, siamo molto distanti dalle medie mobili, per quanto riguarda l'inverso, questo è il discorso. Per quanto riguarda invece il lato ciclico normale, se da qui è partito effettivamente un nuovo T più 4, un secondo T più 4, dopo il precedente, effettivamente stiamo avendo una bella spinta di alzo. Siamo già a un T più 2 che certifica, essendo rialzista, fortemente rialzista, la partenza effettiva da qui, del nostro T più 4. Per cui abbiamo un semestrale che sta partendo molto forte, che però in questo momento è arrivato a quanto? Se prendiamo la nostra durata, appunto, corretta per ora, assolutamente corretta, qui ha chiuso il primo T più 2 mensile e qui sta partendo il secondo T più 2 mensile che è già certificato come partenza da questo quinto T, ovvero il secondo T più 2 mensile. Perché è già certificato? Perché ci vuole un sottociclo di 2 gradi inferiori rialzista, ovvero anche soltanto un settimanale, che non violi questo minimo, per portarci a salire. Ed eccolo qua, ce l'abbiamo già. Abbiamo già superato i 6 giorni. Siamo effettivamente, fatemelo solo ricontrollare, a... anzi, siamo già a 8. Ok. Questa è una durata, peraltro, media di T settimanale, per cui facciamo le ultime considerazioni prima di lasciarci. qui può avere... dove può avere chiuso il nostro primo settimanale? O è ancora in vita? Allora, qui a 5 barre non può aver chiuso, qui a 7 barre potrebbe tranquillamente aver chiuso, per cui, attenzione, da questo minimo sta effettivamente partendo il secondo T settimanale? Anche in questo caso, lo sapremo facilmente, se la candela di domani sarà verde e non andrà sotto questo minimo a 11.510 dollari, avremo effettivamente che c'è una probabilità che parta ancora, anche perché il primo T settimanale è già arrivato a una durata media, anche se può arrivare a 9, 10, anche 11 candele. Per cui io inizio a mettermi un bel punto di domanda qui. Vedremo poi nei prossimi giorni come aggiornare il tutto, ricordandovi sempre che, come dico, da un bel po' di tempo, dato che oltretutto abbiamo superato il massimo prima della caduta precedente a 10.500, il trend è fortemente rialzista in questo momento e si può soltanto scendere in chiusure come questa di mensili piuttosto che di trimestrali, semestrali, ciclici ed altro. D'accordo? Di avervi detto più o meno tutto, ci sentiamo alla prossima. Buona nottata a tutti! Buona nottata a tutti!